Se le città del nord Europa utilizzano l'acqua del mare come mezzo di riscaldamento, perché non potrebbe farlo anche Trieste? Questa constatazione slogan definisce bene la decisione da parte del Comune di concentrare il proprio interesse nel campo delle energie rinnovabili sulla geotermia da acqua di mare, che garantisce costanza e continuità nella disponibilità della risorsa naturale, scambio di calore senza combustione, un unico impianto di raffreddamento e riscaldamento, salvaguardia della risorsa senza sprechio e contaminazioni, sicurezza degli impianti, benefici economici. Stamani l'assessore comunale all'ambiente Umberto Laureni ha presentato ufficialmente la squadra di realtà scientifiche, ma non solo cittadine, che già attraverso un primo tavolo di lavoro, in detto breve, inizierà a discutere le varie opzioni che potranno presentarsi, ampie, indipendentemente dal numero di enti chiamati ad esprimere il proprio parere. Ci saranno l'università con il dipartimento di ingegneria, l'area Science Park, la Fondazione per il Progresso e la Libertà delle Scienze, a Cegas APS AMGA è lo stesso comune, che ha già in animo una ricognizione interna per verificare tutte le possibilità di risparmio per i propri edifici che si dotassero di tale approvvigionamento di calore. Per il momento, ma si tratta solo di ipotesi, sono state individuate tre aree distinte su cui si potrebbe intervenire. La zona di Campo Marzio, compresa fra l'ex meccanografico e la piscina comunale, il waterfront davanti Piazza Unità e il Porto Vecchio.